Lorenzo Muslinger vince i campionati regionali invernali giovanili di nuoto nei 50 stile libero categoria juniores. Il portacolori del Green Alghero ha centrato il gradino più alto del podio a passo di record regionali di categoria in 23-49. Ben 9 i record regionali assoluti battuti nella piscina Terramaini ai campionati disputati nello scorso weekend, mentre altri 6 di categoria, tra cui proprio quello sfissato dall'algherese Muslinger, sono stati superati. I titoli riservati alle società sono stati conquistati dall'esperia per le categorie ragazzi e juniores, mentre la categoria cadetti è andata a pannaggio della sport full-time Sassari.